Dopo il giorno dell'intimidazione al procuratore capo di Reggio Giuseppe Pignatone, proiettile in busta chiusa e minacce, rivolte peraltro anche al numero uno di Confindustria Sicilia Ivan Lobello, che coraggiosamente ha indicato una via di rottura totale con imprese mafiose o colluse. È il tempo della solidarietà. Fin da ieri si è dipanata una vera e propria onda lunga di vicinanza al lavoro dei magistrati, delle forze dell'ordine, nella giustizia nel senso più ampio, che peraltro troppe volte è finita nel mirino dalle parti nostre, nel breve volgere di cinque mesi, dalla bomba inesplosa davanti alla procura generale presso la Corte d'Appello all'inizio dell'anno, fino ai vigliacchi moniti, ai PM Giuseppe Lombardo e Antonio De Bernardo. Fra le reazioni di queste ore, pieno sostegno e solidarietà, espressi dal consigliere regionale del PDL Gianni Nucera, secondo il quale, con l'attacco diretto al procuratore capo, le endrine hanno voluto alzare il tiro. L'incondizionata solidarietà, giunta dal segretario provinciale dell'Udc Paolo Mallamaci, che stigmatizza i gravi condizionamenti che minano la serenità degli operatori della giustizia e dei loro familiari. Pure la CISL calabrese e regina, guidate da Paolo Tramonti e Cosimo Piscioneri rispettivamente, ravvisano nella missiva minatoria il segnale inequivocabile di un escalation criminale, dichiarandosi vicini a inquirenti e forze dell'ordine, come pure i giovani imprenditori di confcommercio, certi che malgrado la vila intimidazione, Pignatone e Lobello continueranno nella loro opera, danno anche più fiducia ai tanti associati che, si legge, non intendono più proseguire le attività dei genitori, perché avviliti dalla traccotanza mafiosa. E stasera il movimento regionontace sfilerà in corteo da Piazza De Nava fino a Piazza Duomo per dimostrare tangibilmente la voglia di tanti reggini di solidarizzare coi magistrati, mettendoci la faccia. Domani, dal canto suo, il presidente del Consiglio regionale, Franco Talarico, che già ha inviato una nota di totale solidarietà al procuratore Pignatone, prenderà parte nella sua lamezzia a un'iniziativa di rango regionale promossa da Scorta Civica Calabria-Caltanissetta-Palermo a tutela di magistratura e forze dell'ordine. Ribadiamo che non ci lasceremo intimorire da simili episodi che anzi rappresenteranno un ulteriore stimolo nell'impegno quotidiano per offrire ai cittadini una risposta di giustizia tempestiva, equa ed efficiente. E ferma la reazione della giunta distrettuale di Reggio Calabria all'intimidazione compiuta ai danni del procuratore della Repubblica, Pignatone, al quale è stata inviata una busta contenente un proiettile ed una lettera di minacce. In un documento a firma del segretario Tommasino Cotroneo e del presidente Rodolfo Palermo, l'Associazione Nazionale Magistrati Regina esprime vicinanza e solidarietà al procuratore Pignatone per la grave minaccia subita e manifesta allarme per gli episodi minatori che si ripetono ormai con inquietante frequenza ai danni di magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e nell'affermazione quotidiana dei valori della legalità. Una cosa ormai sembra chiara e cioè che la manovra economica predisposta dal governo accrescerà ulteriormente il divario tra nord e sud. Lo sostiene in una dichiarazione il segretario regionale del Partito Democratico Carlo Guccione. Una manovra giunge per fronteggiare la grave crisi economica che colpisce l'Italia e l'Europa ma in netta contraddizione con l'ottimismo sullo stato di salute del nostro Paese sbandierato fino a qualche settimana fa dal premier Berlusconi e dal suo ministro all'economia Tremonti. Una manovra che manca completamente di qualsiasi indicazione per la crescita economica ed occupazionale del Paese e che ancora una volta andrà a pesare sulle tasche delle fasce più deboli e più disagiate così come già avvenuto per l'esenzione dell'ICI e che aggraverà ulteriormente le precarie condizioni di vita della Calabria del Mezzogiorno che solo in questi ultimi due anni hanno dovuto subire gli scippi pesanti di ben 31 miliardi e 381 milioni dei fondi destinate alle aree sottutilizzate del Paese e che invece sono state investite ad esempio nel trasporto locale sui laghi Maggiore, Garda e Como o per pagare i danni dell'alluvione in Piemonte e in Val d'Aosta. Una manovra economica aggiuntiva, dice ancora Guccione, solo per il Sud che si è dimostrata perfino ancora più onerosa di quella che ora dovrà sopportare l'intero Paese. Non finiremo mai davvero di stupirci se il mondo reale continua a rimanere del tutto distante da quello virtuale che spesso è della politica. A dirlo con sarcasmo il presidente degli industriali calabresi Umberto De Rose commentando l'ipotesi contenuta in finanziaria dell'introduzione del pedaggio per l'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. Già si fa una bella fatica, ha aggiunto, a denominarla autostrada, ma chi ha il coraggio o la necessità di percorrerla dovrebbe essere pagato e non già tassato. Non è un problema di costo ma di principio e coerenza. Normalmente infatti a fronte di un costo che si sostiene si ottiene come contropartito un servizio. Qual è il servizio che i calabresi dovrebbero pagare oggi per attraversare la loro regione? Per questo al danno di avere un'autostrada che tale è solo per definizione si aggiunge la beffa di doverne pagare la percorrenza pur essendo nei fatti una mulattiera. È da troppo tempo che, come Confindustria Calabrese ha sostenuto De Rose, andiamo ripetendo, seppur in maniera solitaria, come sia scandaloso che ancora oggi esistano arterie stradali che, seppur vitali e significativamente importanti per rimanere attaccati al resto del Paese, siano così trascurate e soprattutto non abbiano mai trovato, come per la A3, una loro definitiva sistemazione. Così invece che intervenire sulla qualità e la sicurezza dell'autostrada, piuttosto che la necessità di velocizzare gli eterni lavori in corso, ha concluso De Rose ciò che di più utile si trova da fare è proporne il pagamento del pedaggio.